...i stradali in corso sui colli albani per l'apertura del terzo tronco della via dei laghi, bellissima arteria panoramica che arricchirà di nuove prospettive artistico-turistiche ed intorni della capitale. Il tronco in costruzione va dalla strada Rocca di Papa a Riccia fino a Marino. Una parte della strada si snoda intorno al pittoresco lago di Albano che rispecchia la ridente cittadina di Castel Gandolfo. Nei pressi di Palazzolo si sta aprendo un ampio belvedere dal quale si domina un vastissimo orizzonte che spazia sulla campagna e sul mare fino a Civitavecchia. Grazie a tutti.